ciao a tutti buon tardo pomeriggio da nove giorni non faccio video un po' perché ho fatto un pochino di ferie anch'io soprattutto da youtube e un po' perché volevo fare un video diverso da tutti gli altri oggi ho scelto anche non a caso questo luogo e adesso vi spiego il perché e vorrei fare un video che va al di là del video è chiaro che dei video prima arriva l'immagine poi arriva il contenuto in questo caso però facendo un video in campagna volevo parlare di qualche cosa che evocasse altre cose e va bene tanto vale che io vi dica subito di cosa voglio parlarvi oggi vorrei parlare di visibile di invisibile ora e sembra molto semplice spiegare che cos'è il visibile spiegare che cos'è l'invisibile e visibile è quello che noi percepiamo con i nostri sensi ora nel mio caso magari sembra un pochino difficile parlare di queste cose però magari questo sarà anche l'oggetto di un ulteriore video anche se le cose io non le vedo però tutto quello che c'è intorno lo percepisco con tutti i sensi residui comunque il visibile è tutto quello che noi possiamo percepire con i sensi ora il video lo faccio in campagna perché la campagna è un luogo nel quale ci sono molte cose godibili visibili ma che ispirano anche a cose invisibili ora quindi l'invisibile essendo tutto quello che i nostri sensi non percepiscono è chiaro che siamo ovviamente circondati da invisibile e mi sembra che sia incontestabile il fatto che l'invisibile ci attiri ci attrae il misterioso ci attira siamo affamati di trascendenza e di invisibile che si creda che non si creda ora esiste un invisibile tra fede e scienza cioè esiste un visibile e un invisibile l'invisibile può essere verificabile o non verificabile allora io dico subito che l'ispirazione è stata la querelle la polemica che c'è in questi giorni sui negazionisti o comunque le persone che prendono in un certo modo delle posizioni diverse rispetto a questo benedetto coronavirus che è un qualche cosa di invisibile che comunque produce degli effetti e ha prodotto degli effetti nefasti mi auguro quindi vorrei andare oltre che la polemica non riguardi la negazione del virus questo sarebbe un discorso anche oggetto di altri video perché i complottisti cioè le persone che comunque negano anche cose apparentemente incontestabili e quindi complottisti addirittura negano che la terra sia rotonda addirittura qualcuno ha negato anche che ci sia stato l'olocausto si nega l'arrivo sulla luna insomma si sono negate molte cose siamo talmente liberi di pensare tutto quello che vogliamo che si può pensare questo e anche tutto il contrario di questo quindi mi auguro che la polemica riguardi solo il modo di affrontare quindi la chiusura un certo tipo di misure da adottare e non che riguardi appunto la negazione di un qualche cosa che ha prodotto vari effetti di fatto questo è un invisibile verificabile perché comunque se noi volessimo andare a fondo nelle varie argomentazioni abbiamo gli strumenti per farlo ovviamente ci manca il tempo il problema di oggi è proprio il fatto che siccome siamo influenzati dai mass media e da tutte le notizie che ci arrivano tendiamo a credere e a dare credito a tutto quello che succede però se noi volessimo andare a fondo ad una notizia lo potremmo fare e chiaramente dovremmo utilizzare del tempo che ci manca e dovremmo avere degli strumenti quindi se noi volessimo verificare attestare l'esistenza di un virus per dire potremmo anche consultare degli esperti fidarci del loro parere ma oppure potremmo addirittura toccarlo con mano non nel senso di prenderci però non so ad esempio vederlo al microscopio andare in un laboratorio insomma è un visibile un invisibile che può essere al limite verificabile e verificato esiste però un invisibile che non è verificabile e qui veramente noi siamo affamati di questa tipologia di invisibile abbiamo la fede ma la fede non è un dato di fatto non è un dato scientifico è un dono quindi uno può credere ma anche il credente è comunque una persona che dubita perché comunque quello che attiva la ricerca la nostra curiosità è proprio il nostro dubitare il nostro essere persone dubitanti quindi anche l'uomo di fede uno che dubita per quello che io diffido sia dai negazionisti che tendono a negare anche le cose che potrebbero essere verificate ma poi danno assolutamente credito in modo dogmatico cioè non ammettono che ci siano altre persone che abbiano un'altra idea e diceva isacco di ninive che bisogna difendere la verità ma non bisogna neanche accanirsi a difendere la verità nel senso che se io percepisco una verità un'altra persona purtroppo per fortuna percepisce altre verità il problema è il dialogo e la difficoltà sta proprio in questo e anche la bellezza sta in questo cioè la diversità che stimola il dialogo quindi queste persone e questa è la contraddizione che si ostinano a negare un invisibile verificabile poi si ostinano allo stesso modo ad affermare un'invisibilità non verificabile e questo genera intolleranza sia nell'un caso che nell'altro veramente non so cosa ne possiate pensare voi mi rendo conto del fatto che questo è un argomentazione che è un argomento molto difficile da affrontare che richiederebbe anche un contraddittorio che richiederebbe anche un ulteriore specificazione possibilità di argomentare con altri dati però io volevo semplicemente dire questo insomma in ultima analisi che sia le persone che negano un invisibile verificabile e affermano un invisibile non verificabile sono in contraddizione bene io con questo non vorrei sediarvi vorrei anzi lanciare delle provocazioni per favorire un dialogo un dibattito fra quelli che avranno la voglia di ascoltare questo e di vedere questo video questo video è soprattutto da ascoltare appunto avrebbe meritato di più farlo in un podcast ma anche questo sarà fatto quindi questo video andrà anche nel mio podcast che è non di sola tecnologia podcast quindi vi ringrazio molto vi saluto vi invito a iscrivervi per non perdere le altre possibilità poi riprenderò con i video tecnici sto pensando di fare un video sull'aggiornamento di windows 10 a windows 10 che ha portato veramente numerose migliorie e possibilità di cui però vorrei parlarvi e per questo vi rimando al prossimo video un grande saluto ciao ciao a tutti